dal mito di protagora alla scuola di oggi c'era una volta dice protagora un'epoca in cui esistevano gli dèi ma non le specie mortali quando giunse il tempo stabilito dal destino per la loro nascita gli dèi le modellarono in seno alla terra usando la terra stessa il fuoco e loro composti prima di fare uscire alla luce le specie mortali decisero di distribuire in modo appropriato le varie facoltà quindi cominciarono a distribuire fra gli esseri viventi le dimensioni la velocità la forza gli artigli le pellicce le pelli gli zoccoli le radici la fecondità la dieta però si dimenticarono una risorsa molto importante che era quella della ragione logos si resero conto quindi che l'uomo era rimasto debole nudo indifeso mentre si approssimava già il giorno in cui sarebbe venuto alla luce per sopravvivere allora decisero di dare all'uomo la tecnica e il fuoco e in questo modo gli esseri umani acquisirono la competenza necessaria per la vita ma non quella politica così l'uomo divenne partecipe di un destino divino in quanto imparentato con la divinità fu l'unico essere vivente a riconoscere gli dèi a predicare il culto grazie alla sua tecnè imparò da articolare la voce in parole e inventò case sandali letti vesti nonché l'agricoltura ma gli uomini continuavano a vivere separati e non riuscivano unirsi neppure per difendersi dagli animali feroci perché non avevano la tecnè politica di cui parte anche quella bellica allora zeus per salvarli dalla rovina inviò hermes a portar loro aidos vergogna e di che giustizia affinché costruisse l'ordinamento delle città e vincoli considerazioni il genere umano quindi dipende dall'arte della tecnica e dall'arte di vivere insieme queste sono arti e quindi non sono istinti o impulsi naturali e quindi queste arti hanno una caratteristica devono essere apprese quindi l'uomo ha un'infanzia molto lunga relativamente alla durata della vita stessa ed ha un'infanzia che è molto faticosa rispetto a quella di altri animali che devono imparare molto meno infatti tra le caratteristiche dell'essere umano non bastano solo gli istinti per poter vivere quindi imparare a vedere imparare a muoversi a camminare ciò non garantisce la vita ma gli occorrono tecniche di arte meccanica e tecniche di giustizia e moralità e tali tecniche tali conoscenze richiedono molto molto più tempo per essere imparate tutte queste abilità inoltre esigono un qualcosa di nuovo esigono il linguaggio poiché senza di esso non potrebbero essere comunicate queste arti da uomo a uomo e non potrebbero nemmeno nascere non potrebbero essere approfondite non potrebbero essere sviluppate quindi il linguaggio diventa centrale perché consente le astrazioni e le generalizzazioni indispensabili alla formazione delle tecniche stesse potrete trovare molti più approfondimenti nel libro da cui sto prendendo spunto linee di storia della pedagogia di abbagnano e di bisalberghi se vi piacciono questi tipi di video fatemelo sapere per me è molto importante che possiate commentare per arricchire il video e possiate iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati io vi ringrazio un caro saluto da francesco samani